Siamo qui a Piccuro con Grifor. Grifor quanto sogno tiene? 11. Grifor ha 11 anni e dimmi Grifor in che grado vai? Quinto. La quinta elementare. Grifor tu madre si chiama Doris e Doris ti sta traendo tutto questo per studiare e per essere uno dei primi del salone. Tu prometti a Doris questo? Sì. Bene. Tu vuoi continuare a studiare e che vuoi essere di grande? Dottore, professore, ingegnero, autista del bus, che vuoi essere di grande? Ingegnero. E vamo a costruire molto a casa di Tarlinda a Piccuro. Ok. Bene. Lui vuole diventare ingegnere. Per essere ingegnero ti vuoi studiare molto. E ti gusta la matematica? Sì. Vieni perché l'ingegnero usa molto la matematica. E così tu vuoi salutare ora a Doris che ti ha traito tutta questa donazione e speriamo che ti va aiutare anno per anno. Però tu devi studiare, sì? Io vorrei venire alla scuola di Piccuro, vorrei parlare con tuo professore o professore. Che hai? Professore o professore? Professore. Vorrei parlare con tua professore e lei mi va dire sì, sta studiando, è uno dei primi. Ok. Salute a Doris. Grazie a Doris. Grazie a Doris. Grazie a Madrina Doris. Dai, forte, forte. Grazie a Madrina Doris. Grazie a Madrina Doris. Grazie a Madrina Doris. Te quiero mucho. Doris, in spagnolo te quiero mucho significa ti voglio bene, già lui ti vuole bene, speriamo che presto vedrai questo video, vedrai la tua bellissima donazione e anche tu lo vorrai tanto bene. Lui poi ti manderà un disegno, una letterina e ora chiamiamo tu madre, no? Come si chiama tu mamma? Lei. 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 Chiamiamo tu mamma per salutare la madrina Doris. Guardi, guardi. Guardi, guardi. voglio una grande festa aca con tu chicos e toda tu familia. Grazie a Doris. Grazie!